Per così tanto tempo, oggi sono stato qua la mattina alla sera e dal mio punto, dove sono stato più o meno inchiodato tutto il giorno, mi sono fatto giverto. Dal primo anno che vengo per così tanto tempo, oggi sono stato qua la mattina alla sera, prima avevo sempre attraversato serate o pomeriggi del Tocatì molto da appunto come chi fa zapping in televisione e non mi aspettavo così tanta gente davvero ininterrottamente e tutti molto, per lo meno per quello che abbiamo percepito lì, interessati a quello che stavamo facendo, a una situazione, al contesto, sembrava che venissero con voglia di partecipare attivamente alle cose, ma ancora di sapere cosa avremmo fatto, si avvicinavano non tanto con il disinteresse di chi viene e prende volantino bene o male, ti chiede se ne va, no, con voglia di... ecco dai, qui che cosa faccio? Ho voglia di muovere le mani e mettermi a fare. Questa è una cosa che ci ha abbastanza stupiti a tutti quanti. E che venivano diversi stranieri e diversa gente dalla provincia di Verona, cioè non veronesi ma dalle valli, dall'Alcina, dall'Alcina... Grazie, sì, ci sono dei saluti diretti da fuori.